buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un volume è una ristampa anastatica a cura di guido mazzoleni il titolo del volume è luigi brasca monografie storiche corno bianco le montagne di val san giacomo pizzo del ferro l'editore è libri sandit il volume costa 19 euro e 90 grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video grazie 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 grazie